La tenenza di Arzano e il nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato e condotto in carcere Cristiano Pasquale, ritenuto elemento di vertice del gruppo criminale 167, operante in Arzano, costola del clan Amato Pagano. Lo stesso, mentre era sottoposto agli arresti domiciliari, veniva autorizzato lo scorso 6 giugno a partecipare alla comunione del figlio, rendendosi protagonista di un carosello in Ferrari nelle vie del paese, nonostante gli fosse stata rigettata la richiesta finalizzata alla partecipazione ai festeggiamenti. Cristiano, infatti, a bordo di una fuoriserie di ultimissima generazione, una Ferrari decapottabile, noleggiata per la circostanza, si era girato per il centro di Arzano, accompagnato da altri veicoli di grossa cilindrata e persone a piedi, tra i quali anche altri pregiudicati, tutti identificati dai carabinieri, creando disagio per la circolazione, con modi e tempistiche non compatibili con il percorso imposto dall'obbligo di immediato rientro presso la sua abitazione. Il provvedimento è stato adottato dalla Corte di Appello di Napoli, su richiesta dalla Procura Generale sulla base di un'informativa dei carabinieri di Arzano, che hanno documentato e evidenziato la condotta del Cristiano, ritenuta una vera e propria provocatoria a prova di forza, finalizzata all'affermazione della sua presenza sul territorio. Sono stati posti a fondamento dell'ordinanza ulteriori passate violazioni di Cristiano Pasquale, alla misura alla quale era sottoposto poiché, in più di un'occasione, aveva manifestato in sofferenza i controlli di routine delle forze di polizia.